rasse l'isolato su quel quarto di campo attacca doram la finta prova il pass e tiro scarico per sims che segna col fallo dei duram due ci sono già col più uno si è visto fischiare il suo secondo fallo Crawford proprio per di off non è d'accordo Henry Sims still in control for Ajax good pass good block Henry Sims a sua carriera difesa sguarnita in quel caso da parte di Treviso con Pesaro che ha trovato il settimo rimbalzo offensivo mentre Sims trova adesso la schiaccia Rardy lovely dummy Sims I think got the block on there Sims will have to go again oh yeah Sims with the double block prova l'iniziativa personale Russell alzando la parabola il primo ferro gli dice di no pallone per Reynolds per il momento si è visto molto poco il miglior il miglior marcatore del campionato che poi perde palla corretra buongiorno a Sassari che adesso si trova con un altro possesso offensivo Mekoulu neanche la mezza idea di prendersi la tripla dal palleggio va da Clemmons il quale vuole andare fino in fondo altra stoppata stavolta di Henry Sims e poi c'è fallo fischiato a De Ballacanestro Giordano Bortolani classe 2000 qui il tentativo di trap da parte di Treviso la stoppatona da parte di Henry Sims che cancella letteralmente Barnell non c'è nuovo sbucca Sokolovski da tre che rischia di inserire ma extra possesso Dimcha ingresso stoppato per la show e poi Sims mette tutti d'accordo segue la stoppata a giocale con Williams nuovo si va per Tig Tig cerca il gioco a due con Kelly con un saltino e poi Sims risponde con la stoppata difesa away con la palla un po' spasso contro Sims cerca lo scarico per Tig che trova spazio Sims lo cancella poi ancora la palla per Williams ai playoff i poi successivamente campioni d'Italia della Virtus Bologna intanto subito un furto di Petrucelli che strappa la palla dalle mani di Sokolovski poi però arriva la stoppata da dietro e riporta sul più 6 la squadra di Menetti che ha faticato non poco fino a questo momento in questo quarto stoppata di Henry Sims che oscura tutta la vallata ah finora Sims completamente annullato dalla difesa della Vanoli scelta ovviamente preparata in settimana Sims che però qui recupera il possesso e offre aspetta l'uscita di Copponen abbattuto Kane Sims ne approfitta e va a schiacciare con due mani nonostante per un attimo Justin Johnson nonostante per un attimo che si nonostante per un attimo che si 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 Sì, sì. Sì, è stato un giocatore che è stato un giocatore. Il posto di 20. Oh, flaccione. Andi shot! Sf. KT è successo. Sf. L'amore dei sottotitoli. Sf. D'Osson. 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 O! Flaccione. Flaccione. Sì, Sì! non ci può essere da loro volto s anzio o t'acca o a 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 È tornato e abbiamo solo piacere. Fatinelli, l'alzata per Sims. Che bravo a raccoglierla, veramente quanto è forte il centro della fortitudo. Certo, il fisico di Banks. Ribadisco, il pick and roll fra lui e Kane sarà uno dei grandi temi. Mentre qui ci fa vedere se è un'esecuzione perfetta di passo zero.